Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Andrea Slayer Oggi ragazzi, come vedete, siamo qua su Fortnite Guardate, ciuccio Siamo su Fortnite, ragazzi E... Forse ragazzi Scusate se sto dicendo tante volte la parola, ragazzi, comunque Oggi, sto pomeriggio farò una live se riesco Oppure di sera Di sera ragazzi, curro 100% Se non riesco di pomeriggio Oppure la faccio sia pomeriggio che sera Ditemi voi nei commenti Oggi ragazzi, adesso farò molte più live Dato che... C'è, non mi lagga Grazie a Easyjoy che mi ha dato dei consigli per non laggare il live Perché da me, ragazzi, nella mia casa Da altre parti non c'è nessun familiare o parente o amici Che mi possono aiutare su queste cose Perché non sono esperti in queste registrazioni Quindi Mi ha aiutato Easyjoy, ragazzi Ah, comunque se non l'avete ancora fatto andate a seguire Easyjoy, ragazzi Porta tanti gameplay su Forne che a me piacciono un sacco Li guardo sempre Quindi vi consiglio di andare a vedere Poi decidete voi cosa fare Abbiamoci questo shieldino Perfetto E ci prendiamo Cioè, shieldino, shieldone E ci prendiamo il medikit Qua c'è qualcosa Niente E niente Spacchiamo qua E andiamo fuori La live, ragazzi Per chi non l'ha vista Può andare a vedere i primi minuti Anche che non lagga niente Cioè, va benissimo Va fluidissimo Cioè, ho trovato delle bellissime impostazioni Ci riesco a salire qua Ecco, ci riesco Ah, raga, ma Mi stava mirando Non l'avevo visto No Uh Quanto godo Oh, oh, oh Non va bene così Perfetto Oh, oh Non ho chiesto A voi bot Schifosi di No, dai Perché ci devono essere i bot Io direi di andarmene Ah, questo non è troppo scarso Sono scarso anche io, però Questo è brutto Ora scappiamo No, raga, non ci credo Stavo facendo il pro Solo che ci sono I predoni Che a me mi stanno un sacco su E li odio tantissimo Perché, raga, ti appaiono In posti a caso Non so se sono random Oppure decide Fora dove metti Così E niente, raga Li odio sti bot Perché ti rovinano la partita Cioè, io sarei vivo Se non ci fossero quei bot Avevo fatto un'azione bellissima Sarei vivo a quest'ora Sarei vivo Ciao Poi c'è Deadpool Che si coda la partita Intanto Raga, ho fatto una bellissima giocata Cioè, bellissima Poi, una giocata normale Solo che Quanto li odio i bot Ma, ronna Allora Scrivete Hashtag Bot Sotto nei commenti Anzi Anzi, no Hashtag Bot Ehm No bot Hashtag no bot Ecco Perché, raga Per chi li odia Hashtag no bot Perché, raga Madonna Cioè Ti appaiono Così Te, tipo, hai poca vita E niente Non ci puoi fare niente Perché non è che c'hanno Poca mira magari Quei bot No, no Non c'hanno pochissima mira Di mira ce li hanno Dai Cos Raga È rimasto in piedi sul nulla What Va bene Va bene Ragazzi Ora Fornite è sempre più strano Ma non facciamoci caso Anzi, raga Non so dove andare Andiamo qua, dai Che in live Ci ho fatto amicizia Con delle persone Mentre ero lì Perché, raga È stata fuori sta cosa Che tutti adesso Vogliono fare Quelli che forniscono La benzina lì Per fare delle challenge Che forse la potrei fare anch'io E praticamente Cioè Tipo Tutti fanno amicizia Con quelli che sono lì Cioè Non tutti Però la maggior parte Delle persone Quindi quando andate A Se volete fare amicizia Provate ad andare A questa città Cioè città Questo benzinaio Che ci sono delle persone Che vogliono fare amicizia Ecco Non sempre Però Può darsi che ci siano Vediamo se ci sta arrivando qualcuno L'aurora Boreale Che figo Vabbè comunque Non c'è Non c'è nessuno Che vuole venire qua O forse sì C'è qualcuno Che sta venendo Sì, raga C'è qualcuno Che sta venendo Vediamo se fa amicizia Raga Vediamo No, 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 no Perché? Dai, raga Che palle What? No, no, no No, bro Bro, amicizia 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 Bravo, raga Lo stavo per uccidere Foraccio Mi invitevo un mio amico Raga Intanto Intanto Lo saluto nel video Lui non sa Che sto registrando Jumpy Andre Ok Stai apparendo In un video Sai Sto registrando Quindi saluta Tutti Bella Vabbè adesso sto ponendo Stamartita e poi ho finito Ho fatto amicizia con un tizio Sì 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 Jumpy Jumpy Prova a mutarti E riparlare Perché mi sento doppio Eh no Ho altre cuffe Cioè ho le auricolari Dai metto le cuffe normale Vabbè ragazzi Mi sono mutato così Così se mi muto almeno non mi sento doppio E non mi fa fastidio a voi Almeno sentite parlare Jumpy Ma io no Cioè Mi sentite Vabbè Avete capito Ecco Niente Facciamoci sta cosa Ve lo ho benzina 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 Fermo 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 Benzina Benzina Di doppio in teoria Un attimo Ok Vabbè io vado a fettare Tutti tu mi segue Jumpy se vuoi fare amicizia In Fortnite Basta che vai tipo a un benzinaio E vicino all'autorità E tipo ci vanno delle persone Per fare amicizia E' fighissimo Cioè non tutti Però la maggior parte Molti ci vanno per killare Perché vogliono fare gli infami Ho fatto una missione a caso E vai No non mi segue più Dove è andato quell'altro E vabbè Vado da solo Io voglio fare Ma non c'è nessuno Mannaggia a loro C'è uno squale solo Vabbè vado all'autorità Vediamo se c'è qualcuno Perché non vedo nessuno Stranamente Che armi di schifo che ho Oh c'è un tizio Chi è? Ah ma è quello di Acomenprima Figo Quello di Acomenprima che è arrivato È uno scioppone questo Ha scioppato Ha scioppato il pass Tutto ha scioppato C'è pure il secondo stile Sono in macchina con un amico Secondo me mi chiccano dalla partita Se continuo così Probabile Vabbè ragazzi Io finisco il video qua Perché non duri troppo Se non vi annoiate Se non posso durare troppo C'è una moneta Ah no È vero che sta moneta è finita Mi l'ho dimenticato Eh sì Un attimo bro Devo prendere la cassa Nada Ok ragazzi Comunque se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel like Anche Jumpy vi invita a lasciare un like Lasciate la campanella attiva Se non volete perdermi i miei video Abbonatevi se volete avere tanti vantaggi E noi ci rivecchiamo come sempre Ad un prossimo video Ciao ragazzi